La parzelletta di Geppo Siamo in casa, c'è una coppia sul divano che sta guardando un film su Netflix Un film di quelli un po' catastrofici, no? Tipo 2012, Terremoto, questi così A un certo punto la ragazza si gira verso lui e gli fa Tesoro, ma se fosse l'ultima mezz'ora della nostra vita Tu che vorresti fare? Lui si gira, se la guarda e gli fa Vorrei fare l'amore con te Ah, e l'altro i 29 minuti? I gladiatori